Non v'è dubbio che il dissesto rappresenti un problema per Cosenza, perché nulla sarà più come prima. Un evento del genere non passa inosservato, a maggior ragione se si verifica nel pieno di una campagna elettorale. Probabilmente molti di coloro i quali oggi entrano nel merito della vicenda in altri tempi non lo avrebbero forse fatto, oppure si sarebbero limitati a prenderne atto. Ma questa è la politica e queste sono le sue regole, prendere o lasciare. Ma torniamo al problema. L'obbligo della deliberazione di dissesto, diciamo, era nell'aria, perché già dallo scorso mese di luglio l'orientamento sembrava essere abbastanza chiaro. Oggi a Cosenza accade ciò che è accaduto e accadrà ancora in molte città italiane. Nulla di trascendentale, aumenteranno le tariffe e il peso di dover sopportare nei bilanci comunali futuri gli ammortamenti dei mutui che dovranno essere contratti per saldare i creditori. Detto questo, Occhiuto e la sua giunta andranno avanti. Certo, non ci sarà più posto né per consulenti né tantomeno potranno essere assegnati incarichi esterni. Al loro posto ci saranno tre commissari che lavoreranno per riequilibrare i conti. Già, i conti. Sarebbe un'operazione non del tutto vera attribuire all'amministrazione in carica il peso di questa situazione. Chi conosce la vita amministrativa di Cosenza sa benissimo che il problema non è nato ieri, ma che ha origini lontane perché di conti che non tornano se ne parla da anni. Sarebbe interessante a questo punto, per mettere fine alle polemiche, confrontare il lavoro svolto dai governi cittadini che si sono succeduti negli ultimi anni. L'operazione sarebbe utile per capire bene ciò che è accaduto. È certo che l'amministrazione Occhiuto ha tentato di scongiurare il dissesto, ma gli interventi proposti non hanno soddisfatto la Corte dei Conti. Allora, l'argomento è tecnico e richiede conoscenze specifiche e non può essere letto con l'ottica dell'appartenenza partitica, seppur legittima. L'impressione, insomma, è che ci sia molta preoccupazione, non solo e non soltanto per ciò che il dissesto può generare, ma per eventuali, l'impressione è questa, nuovi scenari politici di là da venire.